Con Alduino Tomolini, assessore al bilancio al comune di Martinsicuro, negli ultimi giorni è stato diffuso il report legato all'imposta di soggiorno. I dati ovviamente sono interessanti, ma sotto questo punto di vista emergono anche delle altre riflessioni in ambito finanziario per quanto riguarda le casse dell'ente. Sì, la tasse di soggiorno che ormai è al secondo anno, dall'introduzione per Martinsicuro è una cosa inedita, abbiamo iniziato nel 2020. Siamo di fatti riusciti a creare un'entrata corrente nuova, perché l'anno scorso abbiamo avuto un incasso di circa 100 mila euro, quest'anno siamo arrivati a quasi 150 mila euro. Di fatto adesso possiamo dire che con questa entrata corrente abbiamo predisposto le condizioni per fare delle opere pubbliche importanti, tra cui ovviamente il completamento del lungomare che già abbiamo iniziato a rigorificare. E sotto questo punto di vista ovviamente l'opera più importante rappresenta proprio il lungomare, insomma come diceva una parte, quella centrale è stata realizzata, però lo studio c'è quella di intervenire sull'intero litorale, che sono anni che non si fanno interventi in questa direzione. Sì, un ritardo strutturale importante, da quasi 50 anni non si metteva mano alla parte est del lungomare, il progetto esecutivo è quasi pronto ormai e la tassa di soggiorno rappresenta proprio la sua fonte di finanziamento. Grazie a questa opportunità che abbiamo saputo costruire insieme agli operatori turistici, che ringraziamo, e anche i turisti che ci visitano, avremo la possibilità appunto di innescare un'operazione finanziaria pluriennale, grazie alla quale finanziare proprio la realizzazione del nuovo lungomare. E poi le presenze del 2021 sono state interessanti, insomma nella fase post pandemia anche il movimento turistico Martinsicuro ha ripreso decisamente quota. Sì, abbiamo registrato quasi 390 mila presenze, quindi un dato molto significativo e questo chiaramente ha permesso poi di ottenere l'incasso della tassa di soggiorno che vediamo, la tassa di soggiorno che oggi richiede comunque anche al turista un contributo veramente minimo, si parla di una quota di circa 2,96 euro pro capite, quindi per singolo turista, è comunque la dimostrazione di come grazie ad un piccolo contributo come questo si possa riuscire a predisporre le condizioni per fare veramente grandi cose.